Adesso abbiamo l'International Webmasters Association e abbiamo il Presidente Roberto Scano a cui darei la parola. Grazie mille. Tra l'altro stiamo cambiando nome, non si chiama più Webmaster ma Web Association in quanto il termine Webmaster oramai è un po' obsoleto. Siamo nati nel 1996 negli Stati Uniti e nel 2000 in Italia, quindi abbiamo contribuito parecchio alla storia dell'evoluzione del Web anche nel nostro Paese. Quindi anche i nomi cambiano? Ebbè chiaramente, nuove professioni, nuove competenze, quindi effettivamente interessante. Abbiamo letto il documento, è molto interessante e complimenti al gruppo che ha predisposto la parte iniziale. Ci piace soprattutto la parte legata all'articolo, quello che prevede la non discriminazione. Come situazione tra l'altro abbiamo parecchio combattuto dal 2003 per la normativa italiana sull'accessibilità. La legge stanca è tutto ciò che ne è derivato. Anche perché partecipando attivamente alla definizione degli standard anche all'estero dentro il consorzio IV3C e ISO, il nostro tra virgolette capo, Tim Berners-Lee, che è l'inventore del Web, lui dice sempre chiaramente che il Web è inclusivo per definizione, non è qualcosa di esclusivo. Quindi è qualcosa che lega, che consente alle persone di parlare, di dialogare, di lavorare assieme. Quello che volevo essenzialmente cercare di dire, rimanendo molto breve e lasciando spazio anche agli altri, personalmente è parecchio che lavoro anche in ambito di normazione, sia tecnica sia anche supporto parlamentare per sviluppo di normative, vi dicendo. È un bel documento, raccoglie dei bei principi, vorremmo anche capire quale potrebbe essere lo step successivo di approfondimento. Perché come tutte le dichiarazioni sono principi generali, come diceva giustamente il collega prima, è il classico vogliamoci bene, cioè troviamo un punto d'accordo che va bene per tutti. È capire quale sarà lo step successivo e soprattutto qual è l'impegno, e l'abbiamo scritto sul documento che poi consegneremo, che si prende sia il Parlamento che il Governo italiano per applicare questi punti. Cioè se si dà delle deadline, se si dà degli obiettivi temporali per applicare questi bellissimi punti che porteranno effettivamente un miglioramento della vita in rete. Grazie. Sì, le rispondo subito. Per quanto riguarda la sede parlamentare, diciamo che l'obiettivo nostro sarebbe di arrivare a una mozione congiunta di tutti i gruppi per impegnare il Governo a, questo è il senso della mozione. Dopodiché sarebbe auspicabile che il Governo veicolasse questo documento a livello internazionale, perché non ha senso fare una carta di principi se poi questa carta rimane nei confini nazionali. Quindi l'ambizione sarebbe quella di farla veicolare a livello europeo ed oltre far sì che sia una base di discussione sulla quale poi gli Stati membri evidentemente, voglio dire, a livello europeo potranno, se lo riterranno, considerarlo come un riferimento per eventuali normative nazionali. Per noi l'obiettivo era affermare dei principi forti e essere fonte di ispirazione per quello che ne potrebbe derivare a livello più specifico. Noi non stiamo normando, noi stiamo elencando una serie di principi che riteniamo fondamentali stabilire e chiarire. Quindi due sono le strade. Una è una mozione che ci impegneremo a fare appena avremo chiuso questa parte dedicata all'ascolto. e poi fare in modo che il Governo si faccia promotore di questa carta nelle dovute sedi internazionali perché questo possa diventare uno strumento di ragionamento nella sede estesa, il più possibile estesa, perché no anche le Nazioni Unite, visto che una carta così ha la pretesa di uscire dal circuito nostro, nazionale.